La situazione europea è grave per quanto riguarda il coronavirus e la diffusione sempre più costante finisce per andare a minare quelli che sono gli interessi principali dell'UE, dell'Unione Europea come per esempio l'accordo di Schengen che, vi ricordo, pensate, udite udite, rischia di saltare nella UE, nella UE, tornano infatti le frontiere, le situazioni economiche dell'Europa e non solo stanno notevolmente peggiorando, un indicatore di tutto ciò è dovuto al fatto che, vi ricordo, sono, diciamo così, a picco, meglio, sono in condizioni di pura negatività le borse per quanto riguarda il mercato italiano le borse, parlo di borse americane ed anche a livello europeo, senza ovviamente dimenticare anche le borse asiatiche insomma, borse veramente in condizioni negative, negativissime, l'accordo Schengen che, ripeto nuovamente, rischia di saltare a tutti gli effetti e nell'Unione Europea vanno a tornare le frontiere insomma, non c'è pace tra gli ulivi, non è una situazione bella, positiva, quella che stiamo vivendo per colpa del Covid-19, del coronavirus grazie a tutti, il video termina qua iscrivetevi, commentate, questa è assolutamente un'idea speriamo che ciò non sia verifichi ciao, Dario Andro, narratore italiano